Sarà pure un tunnel intelligente dentro cui passeranno acqua, fogne, elettricità e banta larga, tutto facilmente spezionabile, ma i commercianti del centro storico dell'Aquila, i pochi che hanno riaperto, sono sull'orlo di una crisi di nervi. Soprattutto quelli lungo corso Vittorio Emanuele, dove i lavori davanti ai loro negozi sono cominciati da pochi giorni, proprio nel bel mezzo dell'estate della stagione turistica, con il risultato che i loro affari sono crollati. Allora noi da lunedì non abbiamo visto manco un cliente, ma noi lavoriamo, l'estate, con i turisti che vengono all'Aquila. In questi giorni che vedono tutte queste impalcature, queste cose, non vengono assolutamente, io non ho visto entrare, stamattina non è entrato nessuno al negozio. Purtroppo questi sono lavori che bisognava fare, a parte bisognava farli subito dopo il terremoto quando non c'era nessuno dentro alle attività e ai palazzi. Seconda cosa, sono lavori che non bisogna fare nel periodo estivo in cui noi abbiamo la possibilità di incassare qualche cosa. La questione è sottoservizi approdata anche in comune con una commissione ad hoc per discutere in merito al report quadrimestrale sull'avanzamento dei lavori. Per il presidente del Consiglio Comunale, Carlo Benedetti, il problema è a monte nella tempistica. La logica avrebbe voluto infatti realizzare i sottoservizi per di più intelligenti quando il centro era deserto, non dopo la riapertura di attività commerciali e in concomitanza con tanti altri cantieri. L'appalto ha avuto un ritardo significativo di sei anni, per cui oggi il problema dei problemi commercianti sono in profonda crisi, quei pochi commercianti che sono tornati in centro, quindi ovviamente noi abbiamo più volte posto il problema alle autorità competenti che sono soprattutto il consorzio di imprese che sta eseguendo i lavori. Ovviamente adesso i lavori non è che si possono interrompere, cosa si dovrebbe fare? Bisogna lavorare velocemente e a pezzi. Io credo che un commerciante possa tollerare di chiudere l'attività per due o tre giorni, non per due o tre mesi. È evidente, no? Il commerciante non ha lo stipendio a fine mese, quindi deve fare i conti con una realtà contingente molto particolare.